Adesso sentiamo cosa dicono al Pub Inside dei Remida. Direi freschi, molto freschi, carino. Cosa ne pensi dei Remida? Mi sembra un po' la brutta copia dei Modà che già non mi piacciono. Mai sentiti, però orecchiabile. La melodia a me piace, anche una bella voce. Cosa ci dici di loro? Mi sembra un gruppo indie. Orecchiabilissime, sinceramente, orecchiabilissime. Bravi Remida, bravi. Non mi ha fatto un po' azzini. È simile a alcune band americane, credo. È divertente. Secondo me è una musica anche da ballare. Bella, allegra. Com'è la domanda? Che cosa ne pensi di Remida? Secondo me è molto bellino. Deve riuscire a non sembrare qualcun altro. Poi è perfetto. Questo era Dicono di noi. Ha intervistato le persone Jessica Caldari. Ma prima di andare a ascoltare il primo pezzo cover di Remida, che vengono da Modena e Provincia, l'avete voluto sottolineare. Esatto. Ci racconti, Davide, un po' cosa è successo dal 2012 al 2014? Quindi c'è stato Vita, il primo singolo, e poi? C'è stato il vecchio disco che era Vita, da cui abbiamo estratto due singoli, che sono stati l'unica cura e ora che sei qui. Poi abbiamo sentito l'esigenza di fare un disco nuovo, perché eravamo... Quello era un po' come scrittura molto maturo, quasi fin troppo. E quindi è nato Equilibrio Stabile, che ci portiamo avanti ormai da due anni. Ci ha regalato un sacco di soddisfazioni, è stato anche ristampato da poco e distribuito in tutti i centri commerciali per un accordo fatto con Radio Cop. E quindi siamo abbastanza contenti. Stasera, dopo, sentiremo così che passerà, che fa parte. È stato il singolo che è stato inserito nella Deluxe Edition di questo disco ristampato ed è stato il nostro ultimo singolo della scorsa estate. Da maggio del 2020. Da maggio fino a pochi giorni fa in cui è uscito l'altro singolo. E dopo magari ce ne parlerete, ma avete portato una cover... Esatto. Volete far ballare? Mi pare che... Ci proviamo, è il nostro obiettivo. È il nostro obiettivo perché noi facciamo uno show dove spaziamo veramente di tutto su tutto, su tutti i tipi di brani. E questo è anche il funk, è anche una piccola parte di quello che facciamo. Quindi proviamo a riproporla anche qui. E allora andiamo a sentire direttamente Iremida con Get Lucky dei Daft Punk. A voi il palco. Grazie. Grazie.